A poche settimane dalla tragedia dell'azienda Imociano Sant'Angelo, a perdere la vita un altro operaio, Roberto Scipione, 52 anni, stava lavorando per conto di un'altra azienda sul tetto della Ecotel, che si trova a Pianura Vomano, a Notaresco. Quando sembrerebbe aver perso l'equilibrio ed è precipitato nel vuoto per una decina di metri. Trasportato immediatamente all'ospedale Mazzini di Teramo è morto poco dopo. Intanto si sta ancora cercando di capire la dinamica dell'incidente. Ad intervenire su posto i carabinieri di Notaresco con la compagnia di Giulianova. A poche settimane dalla tragedia che è successa a Imociano Sant'Angelo, un'altra tragedia sul lavoro. Nel 2022 non è proprio tollerabile? No, non è tollerabile nel 2022, però insomma è ancora più intollerabile che noi dobbiamo ogni volta riscontrare, registrare queste tragedie che colpiscono poi i lavoratori, che colpiscono le famiglie. Non è accettabile che chi in qualche modo va a lavorare poi alla fine rischia la vita e in questo caso anche la perde pure. Non è accettabile. Ancora si stanno vagliando tutte le ipotesi per capire la dinamica dell'incidente. Sì, questa è la dinamica dell'incidente. Parlavamo anche poco fa con un collega che avance oggi pomeriggio, perché anche noi insomma abbiamo avuto, purtroppo le prime notizie sono arrivate in maniera frammentata. e non siamo riusciti a, quando meno, a fare le nostre verifiche subito. Stanno facendo anche oggi pomeriggio, stanno andando lì in azienda per capire e vedere che cosa è successo. Però al di là insomma di quella che in pratica sarà la fatalità, che può essere in qualche modo, può anche qualche volta intervenire, è chiaro, insomma sappiamo molto bene che molto spesso non è la fatalità, è la riduzione, insomma, o comunque sia la disattenzione al sistema di protezione che ci devono stare sui posti di lavoro. Ecco, noi abbiamo necessità che per esempio si facciano in qualche modo, che c'è bisogno di inventare, di essere creativi per forza. Ci sono le norme, già che in ogni caso vanno applicate le norme. Oltre ad applicare le norme, secondo noi ci sono anche dei passaggi ulteriori che vanno fatti. La Cg e Cg e Cisleguin hanno presentato una piattaforma chiara, evidente, forte, con indicazioni precise del che fare, che chiaramente insomma implica che una, diciamo, una progettazione, una programmazione delle istituzioni che devono fare per esempio anche su quella che è la cultura della sicurezza, a partire dalle scuole. O quella che in qualche modo è anche la formazione sulla sicurezza, che riguarda sicuramente i lavoratori, ma riguarda anche le imprese. Noi abbiamo detto perché non facciamo una sorta di patente a punti rispetto anche alla sicurezza. Significa che chiaramente anche l'impresa comincia a essere avvertita diversamente rispetto a come in pratica si deve impegnare sul posto di lavoro. E sicuramente nei prossimi giorni, in maniera unitaria, faremo delle specifiche iniziative in questa direzione.